Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Quello che vi racconto non è la prima volta che si sente dire. Il Viminale avverte i prefetti, le autorità di pubblica sicurezza. C'è il rischio di gravi tensioni. Non è una storia nuova questa, è un qualcosa che già da qualche settimana inquieta il governo attuale e gli organi centrali dello Stato. Le informative dei servizi di sicurezza segreti, civili e militari, sono già arrivate al Viminale dove c'è Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. C'è il rischio reale di gravi tensioni civili nella popolazione italiana. Perché? La mancanza di soldi, mancanza di cibo. Questi potrebbero provocare delle tensioni, in alcuni casi potrebbero essere dei gruppi di immigrati, in alcuni casi potrebbero essere delle sommosse fomentate dalla criminalità organizzata. O anche persone in maniera autonoma che tentino di assaltare supermercati, banche, negozi, per mancanza di cibo, mancanza di sufficienti denari per sostentarsi. E attenzione, il problema è che in Italia ci sono all'incirca 4 milioni di persone che lavorano in nero, chi ha la bancarella abusiva, chi fa questo, chi fa quello, chi fa l'imbianchino, il muratore, chi lavora a giornata, oggi ho il lavoro, domani chissà, chi viene pagato ogni venerdì a fine settimana, poi la settimana dopo se viene richiamato, ci sono una svariata veramente galassia di lavori in nero che ci sono in Italia, con milioni di persone che ci lavorano che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza nessuna entrata economica con magari 10, 15, 20 euro in tasca, perché tanto loro avevano il lavoro giornaliero, vivevano di quello, si sono ritrovati senza niente, chiusi in casa, magari con l'affitto da pagare, le bollette, la luce, il telefono, soprattutto il cibo da comprare. Quindi è arrivata una circolare inviata dal ministro dell'interno, Luciano Lamorgese, che invita ad attuare una strategia complessiva di presidio della legalità contro possibili focolai estremisti. Quindi una strategia complessiva di presidio della legalità, forse è meglio dire presidio del territorio, forse che utilizzare termini diversi la cosa sembra un po' meno grave, presidio della legalità, sembra quasi uno slogan, presidio del territorio. presidio del territorio. Quindi il clima generale si sta deteriorando giorno dopo giorno, è stata prolungata la chiusura, che per fortuna adesso non è più totale, ci sono già diverse attività che cominciano a riaprire, e attenzione, aprendo ai persone che vanno in giro per andare in queste attività che stanno riaprendo, sia chi ci lavora, sia chi va a comprare. Ad esempio, si riapre il negozio che vende abbigliamento per bambini e quel negozio comincia di nuovo a vendere e comincia a ricevere dei clienti che escono di casa perché se il negozio vede abbigliamento per bambini è ovvio che se mi ferma la polizia dove va, vado a comprare un vestito per bambini. Come? Scusate, se c'è aperto il negozio per vestiti per bambini è ovvio che uno ci può andare a comprare, quindi non solo quelli dalle lavanderie, le cartolerie, il supermercato, l'edicola, il negozio di elettrodomestici, la posta, la banca, e quindi capite che alla fine tutto chiuso non lo è. Forse molti potranno dire per fortuna e altri diranno questo è il problema. Io realmente non so se è corretto chiudere tutto totalmente sigillare o comunque bisogna riaprire perché questa malattia andrà avanti per mesi e mesi e il vaccino arriverà. Forse, forse a fine anno se corrono. Ma il clima comunque è peggiorato, il clima non è affatto positivo, difficoltà economiche, imprese chiuse, negozi chiusi, potrebbero seguire delle gravi tensioni. Questo è l'avvertimento che lancia il Viminale, che mette in guardia sulla possibile nascita non solo di tipologie di delitto comune, ma anche di focolai di espressione estremistica. Queste sono proprio le parole del Ministero, focolai di espressione estremistica. Quindi un ulteriore rischio che si potrebbe correre è che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali. Quindi questa circolare del Ministro Lamorgese invita i prefetti, che sono le autorità di pubblica sicurezza, a una strategia complessiva di presidio, come dicevamo prima, della legalità. E questo per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata sarà necessaria un'attente e accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all'assegnazione degli appalti. Il Ministro poi sottolinea che bisogna rafforzare la tutela dell'economia legale dagli appetiti criminali, impedendo la formazione di qualsiasi spazio di agibilità che si potrebbe aprire in questo contesto difficile e in quello che ci attende. Quindi il Ministro dice il contesto è in evoluzione, ma è in evoluzione peggiorativa, non migliorativa, peggiorativa, perché l'ambulante, quello che andava a lavorare al cantiere edile in nero, l'imbianchino in nero, il piastrellista in nero, quello che mette l'idraulico in nero, il parcheggiatore abusivo, tutta questa gente non ha soldi da parecchio tempo, da molto tempo. Quindi i prefetti dovranno pertanto lavorare per dare il massimo impulso all'attività di ascolto, di dialogo e di confronto con gli attori istituzionali, i rappresentanti territoriali delle categorie produttive, delle parti sociali, del sistema finanziario e creditizio. Quindi questo ascolto che devono fare i prefetti è un qualcosa di ampio, uno spettro ampio. Quindi l'espansione degli interessi illeciti e criminali potrebbero trovare ampio spazio, fertile, grazie a questa situazione e a fenomeni di disagio proprio correlati alla difficoltà della non ripresa economica. Qui si parlerà di ricostruzione economica e produttiva perché già ci sono delle previsioni inquietanti che parlano che molte, ma molte attività non apriranno più, non riapriranno più. Molti per paura, io riapro e mi trovo lì fuori dopo cinque minuti, alle 9.35, il proprietario dei muri che mi chiede l'affitto perché lui deve mangiare. Io che non ho fatturato niente, che già pagavo l'affitto a malapena, i miei costi erano uguali alle spese, adesso che faccio? Vado a raprire la saracinesca che mi si presenta il titolare, il proprietario dei muri, mi paghi o te ne vai. Capite che molta gente dice preferisco sparire, che mi denuncino, che il proprietario dei muri mi faccia causa, che faccio? Io non ho i soldi per pagare l'affitto, non apro più la saracinesca o magari adesso vado, apro la saracinesca, mi svuoto il negozio e poi gli faccio trovare già le chiavi lì o gliele invio per posta e faccia quello che vuole. Queste sono le idee che io ho sentito di alcuni commercianti e quindi il tale pericolo riguarda quelle realtà anche caratterizzate da un minor sviluppo e da già elevati livelli di disoccupazione. Qui un eventuale aggravamento della situazione economica potrebbe rischiare di comportare il riscorso a forme di sostegno da parte delle organizzazioni criminali che in tal modo mirano anche ad accrescere il consenso nei loro confronti, ovviamente le associazioni, associazioni, le criminali, le organizzazioni criminali hanno disponibilità economiche ingenti e quindi possono operare in diverso modo. L'auspicio del Viminale è che vengono attivati ad esempio gli sportelli di ascolto e che vengono promesse delle iniziative di solidità a vantaggio delle fasce dei cittadini con maggiore difficoltà. Ma parliamoci chiaro, gli sportelli di ascolto, parliamoci chiaro, quale sportello di ascolto può evitare che la gente vada a saltare i supermercati perché ha fame. No, io non assalto niente perché c'è lo sportello di ascolto. Ecco, queste sono parole, parole, parole al vento, aria fritta, una situazione economica come questa, con quello che può portare, si ferma solo con gli agenti di polizia, non con gli sportelli, con gli sportelli dell'ascolto. Ecco, lasciamo perdere gli sportelli dell'ascolto e le opere di sensibilizzazione che potrebbero servire a dare al suo sistema. Ma quale opere di sensibilizzazione? Se la gente ha fame, cosa li sensibilizzi? Ci guarda, facciamo un pranzo virtuale, tu immagina, no? C'è come quel film sette chili in sette giorni dove c'era la cena immaginaria, non so se vi ricordate, c'era Pozzetto e l'altro chi era? Renato Pozzetto e l'altro, non mi ricordo, c'è un'amnesia, comunque sette chili in sette giorni c'era la cena immaginaria. Qui non si può fare la cena immaginaria, forse la si può fare una sola volta e poi bisogna mangiare, quindi il rischio comunque delle tensioni rimane assolutamente elevato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.